Il 4 novembre ricorre la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Il Sacrario Militare dei Caduti di Oltremare di Bari ospiterà come di consueto a partire dalle ore 11 la solenne cerimonia in onore dei caduti che sarà presieduta dalla Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini in rappresentanza del Presidente della Repubblica. Al Sacrario Militare dei Caduti di Oltremare si trovano i resti di oltre 65.000 soldati, marinai e avviatori, di cui 41.000 ignoti caduti durante i due conflitti mondiali. Il 4 novembre rappresenta una tappa fondamentale della storia della nazione in quanto sancisce il compimento di un percorso di unità di territorio, di popolo e di coscienza fortemente voluto dagli italiani ed iniziato con il Risorgimento. La giornata delle Forze Armate e l'appuntamento annuale dei militari italiani con i propri concittadini e rappresenta il luogo ideale di incontro tra le Forze Armate ed il Paese. La caserma dei Carabinieri Bergia su lungomare Nazario Sauro di Bari nella mattinata di domani aprirà le porte ai baresi. Militari del Comando Provinciale di Bari guideranno i visitatori illustrando loro alcuni mezzi in dotazione, quali per esempio la stazione mobile, l'autoradio del nucleo radiomobile, i mezzi e i materiali in uso agli artificieri antisabotaggio. Grazie.